Nella sala giunta della provincia di Catanzaro è stato presentato il corso di formazione in ematologia ed oncologia in programma Catanzaro il 19, 20 e 28 novembre. Ai nostri microfoni il direttore del corso, dottor Stefano Molica. È necessario con una cadenza ormai annuale andare a informare, andare a ripuntualizzare su quelle che sono le nuove frontiere nell'ambito dei trattamenti dei tumori oncologici ed oncoematologici. Questo perché ormai il livello di conoscenza si è velocizzato notevolmente, quindi la possibilità di accedere a nuove terapie per i pazienti è un fenomeno che avviene quasi ad oras. Quest'anno abbiamo incentrato un po' tutto il nostro programma scientifico sulla immunoncologia. L'immunoncologia è una nuova frontiera nel trattamento dei tumori, sia dei tumori solidi, quindi dei tumori epiteliali, sia dei tumori ematologici. E va ad interagire con un aspetto assai negativo. Noi siamo stati abituati sempre a pensare al sistema immunitario come qualcosa di favorevole, come qualcosa che ci difende dai tumori. Invece ci sono quelli che sono chiamati gli immunological checkpoint, che sono degli snodi strategici che contribuiscono alla crescita e alla promozione della crescita tumorale. Allora andando a interferire su questi immunological checkpoint con dei farmaci moderni, con dei farmaci intelligenti, si è cambiata la strategia terapeutica, ma allo stesso tempo anche l'aspettativa di vita di molti di questi pazienti. Quindi il problema è nuovi farmaci, ma naturalmente il tutto si scontra con un problema di sostenibilità, perché nuovi farmaci significa anche costi elevati. E devo dire che mi ha fatto molto piacere che un paio di giorni fa Federico Gelli, che è il responsabile del PD per quanto riguarda la sanità, in un intervento che c'è stato qui a Catanzaro, mettendo da parte un po' i fatti locali che sono sempre quelli meno rilevanti, però ha dichiarato per la prima volta come il governo nazionale stia lavorando per ricavare 550 milioni di euro al di fuori del Fondo Sanitario Nazionale da dedicare alle terapie innovative. Questo significherà per molti più pazienti accesso a nuovi farmaci, a farmaci costosi, innovativi, ma che cambieranno la storia naturale di molte malattie, ma soprattutto da un'idea di un impatto molto etico di chi va a gestire la cosa pubblica.